Francesco D'Arrigo è uno dei tecnici che stanno lavorando con i giocatori senza contratto qui a Coverciano, lo ricorderete tutti, la grande impresa del suo Ponte d'Era contro l'Italia di Arrigo Sacchi, però prima di tutto D'Arrigo vuol fare un riferimento a Fabrizio Biasin, editorialista di tutto mercato web? È un riferimento positivo perché non aspetto altro il martedì io per leggere i suoi editoriali che mi riempiono di gioia per come affronta gli argomenti e come riesce a fornire notizie interessanti, quindi complimenti a Biasin. Anche per la sua penna raffinata? Molto raffinata, molto raffinata, sì, io poi che adesso ho appena terminato di scrivere il mio primo libro, quindi cerco un po' di rubacchiare alcuni segreti da questi giornalisti, da chi sa usare la penna, quindi penso che magari piacerebbe arrivare anche ad avere l'ironia di Biasin anche in alcune pagine di quello che ho scritto io. Libro che riguarda il calcio? Sì, riguarda il calcio, non è un eserciziario, è un libro che parla di un po' di filosofia di gioco, una visione un po' diversa delle metodologie, delle didattiche di allenamento. Il progetto di filosofia di gioco, in questo momento qual è quella, non c'è un calcio vincente in assoluto, però la filosofia di gioco migliore secondo D'Arrigo qual è? Più che filosofia non si vince con le filosofie, però si vince con le didattiche di allenamento, con le metodologie e con gli approcci. Io credo che nel prossimo, adesso anche, ma nei prossimi anni sarà vincente una metodologia che si baserà più su un allenamento per principi di gioco più che per schemi predefiniti, dove si ribalta, tra virgolette, un po' la figura dell'allenatore. Non più un allenatore che impone e dirige schemi predefiniti, ma un allenatore che organizza dei percorsi, stabilisce dei principi, delle regole tattici, chiaramente, sono principi di gioco che i giocatori devono condividere e poi lasciando, chiaramente, come è giusto che sia, la scelta libera a chi gioca di definire poi le varie situazioni e leggere le varie situazioni. Ecco, tra i nuovi allenatori della Serie A o anche della Serie B, qual è quello che le destra maggiori curiosità, maggiori interessi? Mi ha un interesse sicuramente Sarri a Napoli perché ha dimostrato in questi anni di aver portato avanti un lavoro estremamente interessante in un ambiente estremamente positivo che in certo qual modo ha anche favorito il suo modo di lavorare. Quindi è interessante vedere alla prova dei fatti, al cospetto di una squadra che non è l'Empoli, che non è formata dai ragazzi del Vivaio, come riuscirà a portare avanti le sue idee. Quindi Sarri sicuramente. E Gian Paolo è un gradito ritorno perché è un allenatore che ha dimostrato di avere idee importanti, poi si era un pochino perso, però adesso sono felice che abbia questa nuova possibilità. Adempoli in un ambiente, ripeto, estremamente positivo e favorevole per gli allenatori che hanno idee di poter, mi auguro che Gian Paolo possa esprimere tutto quello che ha dentro. Tra gli allenatori invece che arrivano dalla Serie B che hanno conquistato la promozione in Serie A, ad esempio Castori è un tecnico che ha fatto della gavetta una delle sue caratteristiche, che adesso è arrivato in Serie A. Sì, Castori è un po' una vecchia guardia, ha fatto un percorso un pochino più tradizionale, mentre invece Stellone, per esempio, è un allenatore che, non dico di nuova generazione, però che ha frequentato la scuola negli ultimi anni, quindi ha magari potuto usufruire di programmi diversi rispetto a quelli di Castori. Quindi sono due allenatori che hanno due formazioni completamente diverse e la dimostrazione è che tutti e due sono in Serie A alla guida di due squadre non accreditate, piccole come era il Frosinone e il Carpi l'anno scorso, e la dimostrazione è che poi, a prescindere dalla formazione, a prescindere da tutto quello nel calcio, poi veramente contano le idee e contano la capacità di saper trasportare le proprie idee in una squadra. Ecco, per chiudere, invece, Paolo Sousa che tipo di formazione ha? Non ho la più pallida idea, quindi non ti rispondo perché non conosco il suo percorso didattico, formativo, non ho idea. Vedremo, lo vedremo dopo le prime partite.